Un altro tavolino interessante è questo dei 1A dei liquiti di Sanremo Abbiamo Simone Babbolone Coppari Niccolò Luis Gallo Caramatti Suo Puffo Porta Fortuna Stacco circa 17.000 per Luis Gallo Oltre 20.000 coppari La presenza è l'IPTIL Pro FULTIL Doug Mickelson Il tavolo con Ivan Barbuto La presenza è l'IPTIL Pro Fuleto Grazie. Su un flop 3-4-6 c'è un bet di un avversario, raise di barbuto e il re-raise dell'avversario 10.000 che costringe al fold barbuto. Non troppo contento.